Sono davvero felice ed onorata per questo incarico in direzione medica del presidio ospedaliero di Biceglie, un ospedale che ha gestito in maniera esemplare la gestione dei pazienti Covid ed è stato un punto di riferimento per tutta l'ASL. Oggi però dobbiamo fare un passo in avanti e dobbiamo aprirci anche a quei bisogni di salute, quindi dobbiamo dare risposte a tutti quei cittadini che hanno delle problematiche di salute che non sono strettamente o esclusivamente legati alla gestione dei pazienti Covid. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità e supporto alle unità operative perché ci sarà un lavoro di squadra. Tutti insieme lavoreremo per la realizzazione di un puzzle in cui ciascuna unità operativa sarà protagonista del lavoro che verrà svolto.